Trovare nuovi spazi in cui svolgere le lezioni rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro, creare turnazioni per evitare l'affollamento delle classi. Sono solo alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida approvate dall'apposita task force regionale creata ad hoc per permettere un ritorno a scuola in Sicilia in presenza e in sicurezza, in linea con quanto anticipato in precedenza. Dopo l'emanazione del piano scuola, approvato con decreto ministeriale lo scorso 26 giugno, arriva adesso l'approvazione ufficiale delle linee guida regionali. Il testo sarà pubblicato nelle prossime ore sul sito dell'assessorato e verrà distribuito a tutte le istituzioni scolastiche e formative della regione siciliana, oltre che ai comuni, ai liberi consorsi e città metropolitane. A comunicarlo è l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla, che ha promosso l'istituzione della task force. Secondo quanto anticipato da Lagalla, toccherà ai dirigenti scolastici scegliere la soluzione migliore per evitare contemporaneamente troppi studenti negli istituti. Il piano prevede la possibilità di ridurre la lezione tipo da un'ora a 40 minuti, in modo da concentrare in due fasce, fra le 8 e le 16, la giornata degli studenti, oppure i doppi turni nella versione tradizionale. Lì dove possibile è consigliato utilizzare spazi più ampi per poter svolgere le lezioni, come palestre, laboratori o atri. L'ingressi e uscite saranno scaglionati per limitare le occasioni di assembramenti. L'uso della mascherina è obbligatorio per tutti gli operatori scolastici nei luoghi comuni, mentre per docenti e studenti al di sopra dei sei anni è obbligatorio durante le attività collegiali, negli spazi comuni e durante i momenti di entrata e uscita dall'istituto. Gli studenti potranno entrare a scuola solo se con una temperatura corporea sotto i 37 gradi e mezzo. A tal proposito verrà chiesta una sottoscrizione con le famiglie che dovranno impegnarsi a tenere a casa gli studenti che presentino difficoltà respiratorie in sorte negli ultimi giorni. Per il rientro a scuola dei nostri studenti, scrive l'assessore Lagalla, occorrerà grande collaborazione e partecipazione da parte di tutti, delle famiglie in particolare, perché non dovranno in alcun modo essere trascurate le opportune misure di contenimento del rischio da contagio e di prevenzione sanitaria da considerare fondamentali per la salvaguardia della salute degli alunni e del personale scolastico. Alla luce di tutto questo, conclude l'assessore, sono certo che anche grazie al determinante intervento degli enti locali e dell'ufficio scolastico regionale, insieme alla presenza vigile della regione siciliana, sarà possibile gestire nel migliore dei modi il ritorno in aula.